Ciao, sono Carl Crucciolo, seguitemi nel mio giro migliore a Kayalami. Sul rettilino di partenza si è in quinta marcia, è breve e c'è subito una piega a destra. Si scalano due marce e si affronta la curva 2. È molto lunga e aprendo il gas i giri del motore tendono ad abbassarsi perché la pista sale. Salendo si scala un'altra marcia e si affronta la curva 3 e ancora una per affrontare la 4 che ci mette sul rettilineo opposto. Si mettono 4 marce e ci si prepara ad affrontare la curva 5 che è molto particolare. Si scala di una marcia. È molto sconnesso l'asfalto e la terza è un po' bassa di giri. Si esce da questa lunga destra e si scala un'altra marcia per affrontare la Clubhouse. Uscendo da qui si tira tutta la seconda per arrivare ad affrontare la S che segue. In uscita si mette la terza e si affronta la salita. Si tira la terza fino al limitatore e una volta in cima si affronta la curva West Bank. Uscendo ci si trova a dover controllare ben la moto che soprattutto dopo 5 giri inizia a derappare molto. La pista scende e dalla seconda si passa alla quarta e si affronta la curva Mineshaft. Si scala una marcia e si toccano leggermente i freni alla fine della discesa. Si tolgono ancora due marce e in prima si affronta il tornantino Continental. Si esce con un po' di spinning perché si è in prima, si passa in terza e si affronta la penultima curva. Brevissimo rettilineo e di nuovo in prima frenando forte per affrontare l'ultima curva. Si esce di nuovo in prima e si sale fino alla quinta marcia concludendo il giro.